Il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, informa alla cittadinanza che lo scorso 6 luglio è stata approvata la delibera su democrazia partecipata a destinazione del 2% delle somme regionali trasferite al Comune per la realizzazione di azioni comuni. In pratica l'ente destinerà la somma di 20.000 euro per la realizzazione di progetti che i cittadini dovranno votare anche online entro il prossimo 23 luglio. Le iniziative individuate dall'ente sono quattro e abbracciano diversi progetti, ovvero la promozione e la valorizzazione turistica del centro storico cittadino, le attività ludico-ricreative rivolte all'infanzia, i progetti di natura ricreativa, culturale, sportiva, artistica, infine le iniziative per la riqualificazione dei parchi e giardini. Nel modulo attraverso la cui compilazione si autorizza il trattamento dei dati personali inseriti si dovrà indicare L'indirizzo mail, nome, cognome, codice fiscale, luogo di nascita, provincia, indirizzo di residenza, recapito telefonico, tipo di documento di riconoscimento, numero dello stesso, data di rilascio, l'ente che lo ha rilasciato, la relativa data di scadenza, il file in pdf o jpeg del documento di riconoscimento e infine il progetto che tra le quattro opzioni si preferisce. Grazie